Sono già pervenute alcune domande di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla programmazione e all'espletamento di corsi gratuiti in maniera di arti visive, scrittura creativa, laboratori teatrali e musica nell'ambito del progetto Cittadella dei Giovani a cura dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Agropoli. L'avviso scadrà il 27 agosto 2021 ed è disponibile sul sito del Comune di Agropoli. Con delibera di giunta numero 186 del 13 luglio 2021 è stata istituita la Cittadella dei Giovani di Agropoli, intesa come un centro permanente di attività e iniziative a sfondo culturale, sociale e artistico a cui si aggiungono attività formative a livello semiprofessionale ed informazione. In data 27 luglio 2021 è stato pubblicato un primo avviso di manifestazione di interesse per la programmazione e l'espletamento di corsi in materia di arti visive, scrittura creativa, laboratori teatrali e musica. A questo ne seguiranno altri che coinvolgeranno altre materie artistiche, nonché semiprofessionali e di informazione. Sono in programmazione infatti corsi gratuiti in diversi settori, sport, danza, ceramica, fotografia, nonché corsi di educazione civica in materia di diritto degli enti locali. e governo del territorio. Lungi dalla visione di un'accademia o di una scuola, l'obiettivo della Cittadella è quello di promuovere l'interesse e la partecipazione dei giovani, sollecitando il superamento di problematiche sociali e ambientali. La Cittadella dei Giovani, affermano il sindaco Adamo Coppola e l'assessore alle politiche sociali, Maria Giovanna D'Arienzo, mira a promuovere l'agio e il protagonismo sociale, culturale e politico, stimolando nei giovani creatività, espressione e autodeterminazione, nonché indipendenza di pensiero, integrazione e inclusione sociale.